buonasera a tutti e ben ritornati sul mio canale tutto dal web gli appassionati del grande fratello sono già in fermento per l'attesa della prossima stagione condotta come sempre da alfonso signorini e in arrivo a settembre anche se manca ancora un po di tempo però il web è già inondato di speculazioni su ipotesi sulle possibili partecipazioni della nuova edizione uno tra questi che quasi certo è un attore di mare fuori tra le indiscrezioni più chiacchierate delle ultime ore c'è quella che vede Antonio Refice uno degli attori di mare fuori pronto a varcare la porta rossa della casa Antonio è noto dal grande pubblico per il suo ruolo di Totò nella famosa serie ambientata in un carcere minorile napoletano ma il suo volto non è nuovo al reality infatti lo scorso anno ha partecipato a Pechino Express insieme a un attore della serie Artem formando così la squadra dei fratm e secondo quanto riporta la blogger Deyanira Marzano l'attore 26enne originario di Napoli sarebbe ufficialmente uno dei nuovi concorrenti della nuova edizione del grande fratello VIP appoggiato